Allora, cari amici, compaesani, confratelli, compatrioti del sud, ho visto il video, quello con le domande a noi del nord, che è molto divertente e simpatico, e allora, come ormai tradizione di questi video, anch'io farò un video in cui non si risponde a una mazza, ma semplicemente si fanno altre domande, e la domanda, l'unica domanda che ho io da fare a voi, carissimi confratelli, compatrioti, è perché tutte le volte che fate domande sul nord Italia, alla fine finisce che parlate sempre di Milano, come se noi milanesi fossimo gli unici che ci stanno al nord. Guardate che ci sono anche i vercellesi, non so, quelli di Orbassano, e mi sono limitato soltanto al Piemonte, ci sono quelli di Sondrio, quelli di Villa di Chiavenna, ci sono quelli di Pordenone, insomma. Non volete sapere qualcosa anche di loro? Quello sarebbe veramente interessante, perché neanche noi lo chiediamo mai. E poi, tenete conto di una cosa, che noi milanesi, essendo milanesi quindi insensibili, e sempre che pensano al lavoro e tutte quelle robe qui, non è che possiamo sempre rispondervi noi, perché noi lo facciamo anche perché ci sentiamo in colpa, se no ci dite che non teniamo cuore. Però, insomma, poi ragazzi, a pensare anche a un video, a farvi delle risposte, si perde il tempo, e uno deve anche andare a far fruttare il tempo, e lavorare, fare soldi. Allora, se invece smizzate un po' le cose, anche con quelli, non so, di Trento, di, non so, Sandonà di Piave, con quelli di Piacenza, o un po' di Piacentini, un po' di Sandonatesi, un po' di Trentini, rispondono, non è che sempre noi milanesi, insomma, ci smizziamo un po' il lavoro, e quindi alla fine nessuno perde tanto tempo, o perde meno tempo. Allora, veniteci a capire anche voi, cari amici, fuori, sede, dentro, sede, con un piede fuori, uno piede dentro, serve un po' anche di comprensione, e vedrete che se scoprite che esistono altre cose, a parte Milano, poi apprezzate di più anche Milano, perché ovviamente Milano, da un gran Milano. Ciao! Ciao!